Un buongiorno a tutti, bentornati, episodio numero 19 del corso di PHP, quest'oggi super super veloce come video, andiamo a parlare dei cookie, cosa sono? Salvare un cookie, accedere al cookie, rimuovere un cookie. Allora, cosa sono i cookie? I cookie sono dei file di testo di veramente piccole dimensioni che vengono salvati sul computer dell'utente, ok? E servono per salvare di solito le preferenze sul sito. Visto che siete su YouTube adesso, guardate in alto a destra se siete da desktop, ci sarà il vostro avatar, ok? Aprite e andate sotto dove vi dice tema, tema di YouTube, e potete scegliere se farlo chiaro o scuro. Nel momento in cui voi andate a segnare scuro, ovviamente diventerà scuro e ve lo manterrà all'infinito, diciamo. Qual è il fatto? Se voi andate a pulire le cache e i cookie del browser, vi ritroverete che dovrete risistemare il tema scuro. Questo perché questa preferenza, così come tante altre su YouTube tipo autoplay dei video, autoplay delle playlist e cose del genere, sono salvate nei cookie. YouTube non se ne fa niente di, anzi, YouTube non vuole occupare spazio sui propri server per sapere le tue preferenze su queste cose qua che sono veramente banali. E non sono nemmeno dati sensibili, perciò cosa fa? Utilizza i cookie, quindi salva sul vostro computer un piccolo file di testo che dice Tema? Scuro. Autoplay video? No. Autoplay playlist? Autoplay playlist? No. Quindi salva queste cose qui, automaticamente quando voi mandate la richiesta a YouTube, il cookie viene aggiunto alla vostra richiesta e YouTube sa cosa vi deve servire. Quindi questi cookie, come ben detto, servono a storare, a immagazzinare delle preferenze prevalentemente e non dati sensibili. Mi raccomando perché sono sul vostro computer, quindi sono sul computer dei vostri utenti, chiunque potrebbe entrare, modificarli, accedervi e via discorrendo. Quindi come possiamo salvare un cookie? Lo facciamo con set cookie, giustamente, no? Abbastanza intuitivo. Vedete che abbiamo un po' di parametri, la prima cosa è il nome, in questo caso noi andiamo a fare username, ok? Se abbiamo username così random, facciamo virgola, il nostro amico si chiama Luca Rossi, va bene? E diciamo che l'unica cosa che mi interessa attualmente è l'expire, quindi prendiamo time che prende esattamente adesso e dobbiamo andare a dire che lo vogliamo per 30 giorni. Quindi dobbiamo fare adesso, scusatemi, più e andiamo a calcolare 30 giorni. 30 giorni sono 60 secondi per 60 minuti per 24 ore per 30 giorni. Quindi andiamo a fare il tempo di oggi più quello che è il tempo in secondi per 30 giorni. Quindi quello che viene salvato qui è Unix timestamp, vi ricordate che l'abbiamo già visto. Vi ho detto che avremmo usato timestamp un po' ovunque. Salviamo, andiamo a vedere il risultato, in realtà dobbiamo solo aggiornare. Fate F12, siamo qua su Elements, andate su Application, ok? Fatemi zoomare un pochino. Andiamo su Application, controllate qui, mi raccomando, devo zoomare un pochino. Vedete qua c'è un po' di roba, c'è il Manifest, Service Work, Storage, noi andiamo qua su Cookies. Andiamo su Cookies, c'è il nostro, vedete, Username, potremmo averne di più. Username, Value, Luca, spazio, perché questo è il, vi ricordate in HTML, percentuale 20, è lo spazio. Il Domain è localhost, il Path è chiaramente il Path del mio progetto. Expire, tra 30 giorni, in realtà qua mette 32, mette il 17, 3, tra circa 30 giorni. Questa è la grandezza, vabbè, poi la priorità, chi se ne frega. Dunque, andiamo a vedere leggermente tutte queste altre cose, cosa vogliono dire. Comunque avete visto che qua c'è il cookie, io potrei tranquillamente fare Clear All, e verrebbe, ok, pulito, rifacciamo ancora, viene salvato un'altra volta, perché l'ho fatto che viene salvato ogni volta che accedo ad esempio PHP. PHP. Voglio far vedere questi, allora il Name è il nome del cookie, è come se fosse il nome della variabile, ok? Il Value è il valore del cookie, quindi in questo caso è Luca Rossi. Expire, come vi ho detto, è un timestamp, e quando è la scadenza del cookie, quindi dopo quella scadenza il cookie scade. Il Domain serve ad indicare il dominio su cui il cookie sarà disponibile, e il Path serve ad indicare dove il cookie sarà disponibile sul sito. In questo caso se mettiamo slash, il cookie sarà disponibile su tutto il dominio, vedete? L'applicato abbiamo Secure. Se andiamo ad indicare che il cookie è Secure, potrà essere utilizzato esclusivamente con le connessioni HTTPS, ok? Questo è quanto. Semplici parametri per fare un cookie base, vi basta Name, Value e Expire. Il resto lo lasciate di default. Torniamo a noi, perché adesso noi vogliamo accedere a questo cookie, giustamente, noi vogliamo accedere, e andiamo a fare semplicemente un Echo. Andiamo a prendere una variabile super globale, com'era dollaro post, file image, quello che è. Quindi dollaro cookie, vedete che c'è qua. Andiamo a mettere il nome del nostro cookie, in questo caso Username. Salviamo. Andiamo a vedere. Bam, vedete che qua c'è Luca Rossi, lo vedete? Perfetto. Qua torna tutto. Andiamo invece a fare un controllo extra, perché farlo così nel caso non c'è potrebbe dar problemi. Vediamo un attimo. Togliamo. Scusate, togliamo. Aggiorniamo. Vedete che ci dà un warning. Noi non vogliamo il warning, perciò torniamo un attimo indietro. E adesso lo ripiazziamo, quindi facciamo così. Bam, molto bene. Poi commentiamo questo, che ci può tornare sempre utile. E andiamo a mettere questo, Echo Username, ma prima andiamo a fare un check is set. Quindi if, sarebbe is set, ma non è scritto né così, né così, perciò io l'ho sempre letto per ignoranza is set. Quindi is set, prendiamo questo. Quindi se è settato molto bene, lo andiamo a mostrare. Perfetto. Else, facciamo un echo, nessun cookie disponibile. Ok? Facciamo così. Salviamo. Noi andiamo qua. Bam, Luca Rossi. Se lo togliamo, nessun cookie disponibile. Punto. Come possiamo rimuovere un cookie? Veramente molto, molto, molto semplice. Riposizioniamo il nostro cookie. Bam, eccolo qua. Andiamo a rimuoverlo semplicemente con un set cookie. Ok? Ci basta chiamare il nostro cookie. Mi raccomando, bisogna essere precisi. Bisogna essere precisi anche più avanti sul path. Cioè, se mettete dei path diversi, se mettete dei domain differenti, eccetera, mi raccomando, dovete essere precisi, se no c'è il rischio che il cookie non venga cancellato. Set cookie username. E mettiamo un expire. Vedete qua? Expire. Lo mettiamo come time, ma al passato. Quindi set cookie. Time. E mettiamo meno 3600. Facciamo così. Salviamo. Prima di andare, ho dimenticato, perdonatemi, dobbiamo settare questo come vuoto. Quindi facciamo così. Salviamo. Aggiorniamo. E vedete che è scomparso. Ok? Molto semplice. Quindi, in questo brevissimo video abbiamo parlato dei cookie. Cosa sono? Prevalentemente si usano per le preferenze, no dati sensibili. Li possiamo settare. Dobbiamo mettere il nome del nostro cookie, il valore del nostro cookie, l'expire. Abbiamo altri tre parametri extra. Possiamo settarlo, rimuoverlo e accedervi. Molto, molto semplice. Io vi ringrazio per essere rimasti con me. Noi ci vediamo al prossimo video dove parleremo delle sessioni. Abbiamo altri due video molto semplici. Sessioni è come mandare email su php. Quindi, piccoli video vi ricordo in descrizione per supportare il canale con gli abbonamenti o tramite affiliate di Amazon e poi sotto il canale se volete restare in contatto con la community, chiedere consigli e quant'altro. Vi ringrazio ancora e alla prossima. Ciao, ciao!